Buon pomeriggio, ben trovati per un nuovo appuntamento con Spazio Salute. Questo pomeriggio in compagnia del dottor Giuseppe Di Pumpo, responsabile dell'unità operativa del pronto soccorso accettazione di casa sollievo della sofferenza. Benvenuto. Oggi la puntata sarà particolarmente calda perché andiamo in un luogo dove viene gestita l'emergenza, ovvero il pronto soccorso. Grazie a lei capiremo anche come funziona, come opera questo cuore delicatissimo. Immagino che gli equilibri siano davvero molto delicati, si lavora in emergenza ed è importante più che mai che tutti gli operatori lavorino con uno spirito di gruppo importante. Allora entriamo nel pronto soccorso di casa sollievo della sofferenza. Dottor Di Pumpo ci aiuti a capire come funziona un pronto soccorso, come è strutturato e quanti accessi arrivano, quante persone arrivano giornalmente. Va bene, il nostro pronto soccorso, la struttura del pronto soccorso è comune un po' in tutti gli ospedali, in tutti i grandi ospedali, quale anche il nostro ospedale. È strutturato con una cosa in più rispetto ad altri punti di soccorso, nel senso che noi abbiamo anche da noi una postazione di 118 che per quanto sia, faccia riferimento alla centrale operativa, viene gestita con personale e con macchine nostre. Questa postazione gestisce il territorio della città di San Giovanni, ma non solo quello perché si embrica anche con le altre postazioni. Quindi da un punto di vista proprio strutturale il pronto soccorso prevede questo piazzale dove sono posizionate anche le ambulanze del 118. In termini invece di accessi, perché appunto il bacino d'utenza è anche abbastanza ampio. Il bacino d'utenza del nostro pronto soccorso è un bacino d'utenza abbastanza particolare. Le spiego perché. Perché i numeri di accessi sono elevati e sono paragonabili a quelli dei pronti soccorsi delle grandi città. nonostante che, come le sa, il nostro è un ospedale decentrato, però è un ospedale che ha notevole importanza dal punto di vista dell'intera regione e anche oltre la regione Puglia. Per cui di conseguenza noi abbiamo un numero di accessi, qui ci sono, passano delle diapositive che ci fanno vedere non solo il numero degli accessi che è notevole, quest'anno si aggirerà a fine anno intorno alle 50 mila utenze in pronto soccorso, con una media che è intorno ai 137-138 accessi giornalieri, ma è un numero di accessi in continuo aumento, anno per anno noi abbiamo un aumento di 3-4 mila persone in più e quindi un importante incremento dell'aumento e una cosa anche molto importante che dobbiamo dire è che questo numero di accessi corrisponde anche a un aumento della complessità degli accessi, cioè i pazienti che vengono da noi, anno per anno, aumentano quelli che hanno una complessità maggiore delle loro patologie. Cioè aumenta la gravità dei casi che vengono appunto... La gravità, la complessità della patologia di questi pazienti. Ecco, appena si arriva al pronto soccorso, tanti di noi purtroppo hanno fatto questa esperienza, c'è il momento dell'accettazione, durante il quale viene assegnato ad ogni paziente un codice che rappresenta appunto la gravità della patologia, della problematica. Come funziona? Beh, questo a cui fa riferimento è il triage, i nostri locali di triage. Nel locali del triage lavora un personale infermieristico formato e, me ne dico la verità, noi teniamo molto alla formazione, per cui facciamo frequentemente dei corsi, addirittura nel nostro pronto soccorso vi è il responsabile per la Puglia del GFT, che è il gruppo di formazione italiana del triage. Il personale del pronto soccorso segue dei criteri, questi criteri, il triage sostanzialmente vuol dire selezionare il paziente, non è una cosa nuova, è una cosa che risale a molti anni addietro, addirittura all'epoca delle guerre napoleoniche, dove cominciarono sui campi di battaglia a fare una cernita, una scelta dei pazienti in maniera un po' più cinica, nel senso che in quel caso si sceglievano i pazienti sostanzialmente meno gravi, quelli che potessero avere una possibilità di cavarsela, mentre i più gravi venivano lasciati al loro destino, era un modo cinico di farlo, adesso il triage si è capovolto, i nostri infermieri con dei criteri di priorità prestabiliti, scelgono per il paziente quello che è il criterio di priorità maggiore, a secondo di un codice colore, i codici colori, non so se... Sarebbero i famosi bollini verde, giallo e rosso, giusto, li vediamo anche... Ecco qua, questi bollini definiscono con il codice rosso i pazienti che hanno necessità immediata di essere trattati. Per i quali non c'è attesa, no? Non c'è mai attesa, nel nostro caso non c'è mai attesa per questi pazienti. Successivamente ci sono i pazienti con il codice giallo, che sono pazienti che comunque hanno una possibile compromissione delle capacità vitali, ma non sono ancora nelle condizioni di correre il rischio imminente di morte, per cui vengono trattati in tempi brevi. Devo dire che noi abbiamo dei tempi che per questi pazienti raramente superano i 10-15 minuti. Parliamo delle urgenze un attimino, perché ovviamente sono i casi più complicati anche. È importante sottolineare che per questo tipo di casi che arrivano al pronto soccorso in codice rosso non ci sono tempi di attesa, ma come viene gestita l'emergenza in questo caso? Cosa succede? Allora, l'emergenza viene gestita in una sala particolarmente attrezzata, definita sala rossa comunemente, alla quale non si accede normalmente dal trial di cui parlavamo prima, ma si accede da un accesso particolare sempre posizionato sul piazzale, dal quale i pazienti che normalmente arrivano con ambulanza e sono barellati accedono direttamente a questa sala. Questo ingresso emergenza che vediamo adesso. Perfetto, accedono a questa sala. In questa sala ovviamente vi è sempre un infermiere pronto ad intervenire e si trasferisce immediatamente un medico accompagnato se necessario da un secondo infermiere e da un operatore socio-sanitario. Questa è l'equip, perché tengo a sottolineare che normalmente in pronto corso si lavora non con gerarchie, ma con equip e in particolare nella sala di emergenza l'equip è fondamentale. E per questo che anche in apertura sottolineavamo appunto come mai, come in questo reparto che appunto è il pronto soccorso, il lavoro di squadra può fare la differenza. Il lavoro di squadra è sapere con precisione quale deve essere il proprio compito, può essere molto utile per diminuire lo stress e per migliorare le performance sul paziente stesso. Lei prima parlava dell'aumento degli accessi dal 2016 al 2018, io immagino che il pronto soccorso sia anche un po' uno specchio probabilmente della società, dei tempi che si vivono. Questo lo dico perché introduco un argomento che è ovviamente attualissimo, ovvero un dato che si riferisce anche all'aumento delle, cioè tra le urgenze appunto che arrivano in pronto soccorso, rientrano anche i casi delle donne vittime di violenza, che pare siano anche in aumento, probabilmente perché sono in aumento i reati, ma probabilmente anche perché è in aumento la percezione, la consapevolezza, per cui magari sempre più donne fanno ricorso anche dopo aver subito maltrattamenti necessariamente appunto alle cure mediche. Abbiamo a questo proposito un contributo della dottoressa Maria Antonietta Antini, medico del pronto soccorso sempre di casa sollievo della sofferenza, che ci parla di un progetto regionale speciale, che è il progetto GIADA, che consente non solo l'accoglienza appunto delle donne vittime di violenza, ma la presa in carico totale appunto delle donne vittime di violenza che accedono al pronto soccorso. Ascoltiamo le sue parole. L'acronimo GIADA sta a indicare il gruppo interdisciplinare donne e bambini abusati, ne fanno parte medici e infermieri, una rete integrata ospedale territorio che fornisce una risposta adeguata alle donne e bambini vittime di violenza. È importante creare una rete integrata ospedale territorio di cui fanno parte diverse figure professionali, oltre i medici e gli psicologi, gli infermieri, gli assistenti sociali, i centri antiviolenza, le associazioni culturali, gli avvocati, le forze dell'ordine. È proprio in virtù di questo che il prossimo 25 novembre, presso l'ordine dei medici di Foggia, verrà stilato un protocollo di intesa tra diverse figure professionali e ne farà parte anche casa sollievo. Nel 90% dei casi le donne vittime di violenza non denuncia e chi decide di farlo nel 62% dei casi lo fa rivolgendosi proprio a pronto soccorso, dove troverà le figure professionali adeguatamente preparate. Già al momento del triage l'infermiere potrà accogliere la donna anche senza registrare i dati anagrafici. È importante comunque la rilevazione, come per tutti i pazienti, dei parametri vitali e in funzione di questi, ma non solo, ma soprattutto in funzione di quella che è la situazione psicologica della donna in quel momento, verrà definito il codice colore. L'infermiere del triage avviserà il medico del pronto soccorso e un'infermiera di sesso femminile accompagnerà la donna vittima di violenza in una stanza riservata, lontano da occhi e orecchie indiscrete. È molto importante l'atteggiamento del medico del pronto soccorso nell'accoglienza alla donna vittima di violenza. L'accoglienza deve essere basata su un rapporto di fiducia, sull'empatia, in maniera tale che la donna possa sentirsi libera di parlare del momento così triste che ha subito. Al momento della dimissione, se la vittima che ha subito violenza presenta delle situazioni tali da poter essere ricoverata, verrà ricoverata, si parla di cosiddetto ricovero sociale, lo stesso dica si verrà ricoverata nel momento in cui è elevato il rischio di reiterazione del danno. Molto interessante questo dato perché ci fa capire intanto che il pronto soccorso poi diventa parte di una rete più grande che offre sostegno, appoggio e cure a quelle donne e anche i bambini, spiegava la dottoressa, vittime di violenza. La violenza di genere. Per cui è anche interessante poi aver ascoltato la dottoressa che appunto ci ha spiegato come magari tante donne non hanno il coraggio di denunciare però si rivolgono al pronto soccorso. È un fenomeno comunque in aumento perché probabilmente le donne cominciano ad avere il coraggio di denunciare, anche se spesso non lo fanno al primo episodio ma lo fanno ad episodi successivi. Certamente è un fenomeno estremamente importante da tenere in stretta osservazione. Dopo aver capito come funziona in generale appunto l'emergenza, l'accettazione nell'ospedale attraverso un pronto soccorso, vogliamo capire da quali operatori è composto il pronto soccorso e quali competenze deve avere poi ciascun operatore. Certo, il personale del pronto soccorso è composto da un discreto numero di medici, siamo 17, compreso il sottoscritto, non proprio giovanissimi ma proprio per questo medici che hanno acquisito una notevole esperienza sul campo. Un discreto numero di infermieri e tra l'altro infermieri giovani, preparati e molto motivati, sono 32 ragazzi veramente in gamba e 5 operatori sanitari che si fanno veramente rispettare per la loro attività nel lavoro. Quindi è un gruppo abbastanza importante di persone. Queste persone si dividono su un'attività che prevede dei turni di lavoro, due turni giornalieri e un turno notturno. Nel turno giornaliero ci sono 3 medici negli ambulatori e nell'emergenza, nonché 8 infermieri e 2 OS. Un quarto medico la mattina e il pomeriggio svolge attività di 118 per quel discorso che facevamo prima, mentre durante la notte abbiamo 2 medici e 4 infermieri professionali. Vorrei aggiungere a questo proposito che l'attività del pronto soccorso non si ferma qui, nel senso che la nostra unità operativa è iniziata da alcuni anni a svolgere anche attività collaterali, ma non meno importanti. Una di queste è l'attività di the service, cioè di attività ambulatoriale con ricovero giornaliero, che spazia dall'attività ambulatoriale, quindi nelle visite chirurgiche, alle medicazioni avanzate che vengono svolte dai nostri infermieri due volte alla settimana, alla attività chirurgica per la chirurgia in ambulatoriale in anestesia locale, all'attività che riguarda le infiltrazioni articolari sia con farmaci sia con il famoso PRP, che è abbastanza di moda in questo periodo, anche con tecniche ecoguidate. Quindi direi che comunque i nostri o il nostro personale, i nostri medici spaziano in un'ampia attività, non soltanto nel campo dell'emergenza. E' come se fosse un'unità, un prolungamento del pronto soccorso. E' un prolungamento dell'attività, anche gratificante ritengo. Vorrei ricordare soltanto una cosa per quanto riguardava i discorsi che facciamo prima, cioè il triage. Siccome il problema principale delle strutture di pronto soccorso sono le attese in pronto soccorso, che provocano stress per l'utente e anche per il personale, abbiamo cercato in qualche maniera di porre dei rimedi. Questi rimedi avvengono attraverso un percorso particolare che noi abbiamo definito, anzi viene definito fast track, in cui pazienti con patologie non gravi vengono gestite soltanto dall'infermiera di pronto soccorso che secondo dei criteri predestiminati invia il paziente allo specialista che lo valuta e chiude la prestazione senza farlo tornare in pronto soccorso, quindi snellendo la sala di attesa. E questo riduce ovviamente i termini di attesa. Poi da quest'estate, in funzione anche dei nuovi codici colori, secondo le nuove guida del Ministero che comunque metteremo in opera l'anno prossimo, scusi, codici numerici, l'anno prossimo, sostituiranno appunto i codici colori, ho iniziato a attuare in via sperimentale, ma la utilizzeremo appena i lavori di strutturazione che sono in corso per una nuova stanza saranno finiti, ho iniziato a far lavorare una postazione medica in triage, proprio per poter dare una quota maggiore di pazienti la possibilità di bypassare gli ambulatori e snellire ulteriormente la sala di attesa. Questo ci ha permesso di avere dei tempi di attesa inferiore alla media? Molto inferiore alla media ma comunque abbassi anche nei momenti peggiori dell'anno che sono l'estate e nelle ore più calde della giornata che sono alcune ore particolari del mattino e del pomeriggio. Quali sono i momenti di maggiore attività, di maggiore intensità appunto in pronto soccorso? Ecco, i momenti di maggiore attività ci sono non per le emergenze, perché le emergenze non seguono un criterio orario, ma ci sono per i pazienti che afferiscono in pronto soccorso con i codici minori, attualmente il codice verde e bianco e diciamo che le fasce orarie tra virgolette peggiori per recarsi in pronto soccorso sono quelle della mezza mattinata e quelle del pomeriggio, del mezzo pomeriggio, nonché dei primi giorni della settimana. Lei spiegava appunto anche queste nuove modalità anche di smistamento delle urgenze che permettono anche di abbassare poi i tempi di artesa. Un altro dato interessante è legato alla formazione, continua, no? La formazione, certo. E a questo proposito vogliamo ascoltare il dottor Franco Cutugno, che è appunto medico del pronto soccorso di casa sollievo della sofferenza, che mostrerà le manovre di rianimazione cardiopolmonare svolte dagli operatori proprio del pronto soccorso. Poi ci aiuterà lei anche a capire come viene fatta la formazione poi in casa sollievo. Ascoltiamo. Questo corso di BLSD è un corso di trattamento del paziente in arresto cardico attraverso quelle che sono le manovre di rianimazione cardiopolmonare. C'è un paziente in cui improvvisamente vengono a mancare, si perdono quelle che sono le funzioni della coscienza, del respiro e dell'attività di cerco dovute a una arritmia maligna che improvvisamente si scatena in questo paziente. Noi con delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e ovviamente una ventilazione dobbiamo cercare di sostenere questo paziente e soprattutto cercare, laddove ne fosse necessario, è richiesta dare uno shock di tipo elettrico con il defibrillatore in modo tale da convertire questa arritmia maligna in un ritmo sinusale e quindi probabilmente ripresa del paziente. Quelle che sono le manovre che noi attuiamo diciamo in un arresto cardico è la valutazione delle funzioni vitali e successivamente passiamo immediatamente a una rianimazione cardiopolmonare, cioè a delle manovre di sostegno sul paziente e quanto prima ovviamente dare immediatamente uno shock di tipo elettrico. Se questo darà buoni risultati ovviamente il paziente darà subito segni di ripresa e quindi mostrerà movimento o altri segni di una ripresa dell'attività cardiocircolatoria. E questo è uno dei corsi appunto che... Questo è uno dei corsi del nostro centro di formazione, centro di formazione Padre Pio, che si propone sostanzialmente di formare più personale possibile, sia laico che sanitario, quindi sia non ospedaliero che ospedaliero, alle manovre di rianimazione quando allora il paziente dovesse avere un arresto delle funzioni vitali, cardiache e respiratorie. E insomma diciamo che è un'attività estremamente importante, loro producono all'incirca tra i 40 e i 45 corsi all'anno sia di BLSD, quindi di soccorso base, sia di ALS che soccorso avanzato, sia di PTG che soccorso nei traumatizzati, sia per il personale dell'ospedale, che deve essere formato continuamente, sia per gli esterni. Siamo in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti, volevo commentare con lei un dato interessante, significativo, che fa riflettere. Abbiamo parlato delle emergenze appunto dei pazienti che arrivano al pronto soccorso, in realtà questo dato di cui parleremo adesso ci parla di un altro tipo di emergenza che riguarda proprio voi operatori del pronto soccorso, perché secondo il Ministero della Salute più di un terzo degli infortuni riferibili a violenza sul lavoro riguardano gli operatori sanitari. Il 70% sono donne e il settore di maggior rischio per questo tipo di violenze è costituito proprio dai dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione. Di che cosa parliamo? Di che tipo di violenze parliamo? Parliamo di violenze verbali e violenze anche fisiche che possono subire e subiscono gli operatori sanitari del pronto soccorso a partire dal triage per poi entrare all'interno degli ambulatori. Piuttosto frequente, direi che quotidianamente ci sono violenze di ordine verbale e con una certa frequenza anche violenze di ordine fisico che possono portare anche a problemi fisici importanti. Questo è comune a tutti i dipartimenti di emergenza del mondo perché sono i punti di interfaccia tra l'ospedale, offerta di sanità e territorio, richiesta di sanità. C'è una tensione certamente maggiore. C'è stress e questa è una cosa veramente frequente. Noi stiamo cercando, nonostante che applichiamo anche quelle che sono le linee guida proposte dal Ministero, credo è una circolare del 2007 che proponeva delle linee guida che fossimo di massima allerta e di assoluta zero tolleranza nei confronti di queste violenze. Però ci rendiamo conto che probabilmente al di là dei pazienti psichiatrici o comunque con problemi particolari il tema più importante sono le attese in pronto soccorso. Ecco perché stiamo cercando di trovare delle soluzioni sempre migliori per poter ridurre i tempi di attesa dei pazienti in pronto soccorso. E questo fa sì che si abbassi anche il livello di tensione. Si abbassi il livello di stress. Benissimo, dottor Di Pumpo. Noi la ringraziamo per averci aperto le porte del pronto soccorso. Ringraziamo ovviamente tutti voi per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV. Grazie ancora al dottor Di Pumpo. Grazie a voi. Grazie a voi.